Oh, accidenti, ho proprio fame, devo andare immediatamente a prendere del cibo, questo è un regno veramente enorme, chissà di chi è questo regno, infatti lì si vedono un sacco di barche e qui intorno c'è tantissima vita e ci sono tantissimi misteri che voglio scoprire di questo regno, chissà di chi è questo regno, adesso me ne entro proprio perché voglio proprio scoprirlo. Per fortuna ho questa spada che è un pochino potente e anche incantata, ok adesso sto entrando nel regno, accidenti sono stato teletrasportato qui sopra, sotto queste piattaforme e da qui si vede molto molto meglio la città, però direi che non mi posso buttare giù, forse mi potrei buttare qua ma non ci arrivo come vedete, penso che dovrei fare tutto questo percorso e mi dovrei buttare, vedete lì c'è la fine tecnicamente perché lì si cade in acqua, quindi mi sa che devo farlo, aspettate devo zoomare perché se no non mi fido, sì tecnicamente lì c'è un vetro vedete, dovrebbe cadere lì, vabbè direi di andarci, però stiamo attenti, porca puzzarda, ho paurissima, ok piano, ok cerchiamo di farla con calma perché tanto non serve diciamo sbagliare, non ci serve sbagliare, ok quindi ok bene, perfetto saltiamo così, saltiamo cosa, e poi dopo qui ultimo salto molto difficile, bene adesso salta qua sotto e ce l'abbiamo fatta, perfetto e adesso datemi immediatamente da mangiare, invece direi di prendere questo grano qua che c'è qui, così almeno possiamo sfamarci un attimo perché purtroppo ho preso danno, c'erano dei caspita di scheletri prima che mi hanno fatto tanto tanto male, però adesso sono vivo e vegeto per fortuna, ma c'è un sacco di giallo qua devo dire, vabbè, come faccio ad uscire da qui, ok perfetto così, adesso direi però, ma c'è un po' di pelle, un attimo, chi è stato a prendere questa pelle, perché c'è della pelle qui, del cuoio di mucca, interessante, questo non me l'aspettavo affatto, direi di farmi però una crafting table così mi faccio un po' di cibetto, ok così, proprio così, perfetto, ok, adesso mi mangio tutto, tutto quanto, oh bene bene bene, adesso finalmente un po' di cibo per fortuna, allora, però adesso resta il fatto che non so di chi caspita sia questo grandissimo regno, peraltro mi sa che sta anche arrivando notte, oh mio dio, non va bene questa cosa, devo muovermi, magari, non lo so, c'è il re che mi vuole dare ospitalità, certo che però, prima avevo detto che c'era tanta vita, in realtà non è vero, cioè guardate, non c'è nessuno, fatemi vedere qua in queste case che cosa si trova, perché, mi sembra vuoto, cioè mi sembra strano che ci sia un regno vuoto, non è normale, cioè di solito i regni sono pieni di persone, no? Non vuoti, vuoti non succede di solito. Ehi, c'è qualcuno? Signori? Tutto ciò è molto strano, Devo approfondire questo mistero perché sono veramente curioso e spaventato pure, accipicchia, ehi, c'è qualcuno... Signori? Oh mio dio, mi sono spaventato di me stesso, scusatemi tanto, non volevo fare questa vociona, è che mi è venuto purtroppo, a volte, non lo so, devo farmi un'operazione alle corde vocali, si vede. Signori, c'è qualcuno? Non c'è nessuno, dai, per favore, fatemi uscire, cioè, dico, fatemi vedere qualcuno. Vabbè, forse questa casa non c'è nessuno, magari nelle prossime ci sarà qualcuno? A parte, ma, a parte gli animali, può esserci... Un attimo, un attimo, un attimo, se non c'è nessuno in questo regno, il che è impossibile perché sicuramente un regno non è che si costruisce da solo, qualcuno l'avrà dovuto costruire, quindi io con questo qualcuno ho abbandonato il regno, ma mi sembra strano, oppure questo qualcuno è stato fatto fuori da qualcosa, e non voglio scoprire che cosa, signori, c'è qualcuno? No, 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 è tutto vuoto, è tutto vuoto, signori? Oh mio Dio, mi sa che questo regno è stato fatto fuori da qualcuno, qualcosa che non so, proprio perché non... oppure magari sono scappati tutti, mi auguro, perché sennò è davvero una storia macabra. Ok, mucchetta, tu hai visto qualcosa? Smettila! No, non ti darò il pane, cioè, poi c'è un sacco di grano. No, tieni, dai. Vabbè, che stupidaggine, sentite, andiamocene. Devo capire che cosa ti è successo a questo regno, perché non va bene così, non va affatto bene, non va affatto bene, devo... ci sarà un... un qualcosa di... un qualcosa che mi faccia capire che cosa è successo a questo dannato regno, però. Un attimo, che cos'è quella là? Ehi, chi è quel tizio lì? Tutto ciò è abbastanza interessante, è un pochino anche inquietante. Fermi tutti, prima di tutto voglio vedere questa casa. Allora, c'è un po' di lana e la porta è pure aperta. Ok. E tecnicamente sembra... c'è tanto viola, no? Vedete, questa è proprio lana messa nel pavimento. Sembra quasi che... non lo so sia stata... ma aspetta un attimo... sta portando da qualche... Ah, sta portando da qualche parte! Questa lana sta portando da qualche parte, però dov'è quel tizio? Sì, signore? Forse era un abitante del regno, mi auguro, se no, ehm... Ciao! Chi sei? Ehi! Mi guardi, per favore? Oh mio Dio! Oh no! Oh no! Oh no, oh no, oh no, togli tanta... Sono morto. Ah! Vai via! No, 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 ho ripreso tutte le mie cose, ho ripreso tutte le mie cose! Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio! Ok, fermi tutti. Devo prendere di nuovo la mia spada, che era tipo la più forte che avevo, cioè praticamente non gli aveva fatto niente a sto schifoso. Vabbè, sentite, direi di seguire questa lana, perché continuo a portarmi da qualche altra parte. E vorrei sinceramente capire che caspita di posto... Cioè, perché c'è il Grimace? Aspettate un attimo, questo dovrebbe essere quello che penso io, diciamo ketchup. Cioè, cos'è che dovrebbe rappresentare questa cosa? Cioè, tecnicamente questa è semplice Redstone, no? Però la Redstone per terra potrebbe far intendere che si voglia dire che c'era del ketchup. E questa è una libreria, e qua c'è un libro, che cos'è che c'è scritto? Attenzione, questo è il regno del Grimace. Io sono un povero esploratore di passaggio. Non so se riuscirò ad uscire da qui. Vivo da qui. Uscite se ne avete l'occasione. Fatelo anche per me! Oh mio Dio! Quindi, ok, direi di lasciare qua il libro, perché nel caso qualche altro nuovo esploratore si imbatta in questo regno, almeno sa di che cosa si tratta. Eh, ok, direi di uscircene immediatamente prima che il Grimace ci faccia fuori. Questo è il regno del Grimace. Ma scusa, ma l'ha costruito tutto lui? Com'è possibile? Mi ha anche ucciso prima. Oh no. Eh, lo sa che son qua, eh. Perché si è messo lì. Si è messo... Ve lo vedete? Mi sta spiando. No, 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 devo circonnavigare. Questo qua mi vuol prendere, raga, lo so. Accidenti! Com'è possibile tutto ciò? Avete capito, quindi, cos'è successo? Cioè, il Grimace ha fondato un regno, a quanto mi sembra di aver capito, e questo è il regno del Grimace, in realtà, e trae in inganno, cioè, fa, insomma, dice cose false, fa capire che in realtà è un regno normale, in realtà è il regno del Grimace. E lo fa tutto quanto apposta, tutto quanto lui. Assurdo! Io non voglio averci niente a che fare con sto tizio, però forse direi di venirci insieme a qualche altro mio amico per esplorare meglio questa situazione, perché se secondo me ci sono altri misteri in questo posto. Allora, come si fa ad uscire da questo posto, però, adesso? Io non voglio più imbattermi nessun regno. Via, per favore, spaccati prima che mi arriva il Grimace dietro di me. Ok, dai, 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 veloce, veloce, veloce. Scappa, per favore, scappa, scappa, scappa. Aiuto, aiuto. Cavalli? Cavalli, ehi, ciao. Oh mio Dio, cosa sono questi cosi? Cosa dannazione sono questi cosi? Sono dei troll enormi, che scher... No, 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 via, 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 via. Ok, vedo l'uscita. Ti prego, dimmi che non ce ne sono dietro di me? Ok, no. Bene, siamo fuori tecnicamente. Ok, l'unica cosa che ho capito è che adesso voglio trovare nuovi misteri, perché questo qua mi è piaciuto, anche se vorrei anche essere più potente, perché non voglio più morirci per via del Grimace. Però voglio andare alla prossima avventura. Grazie a tutti.